Vedetemi, non è perché voglio vendere le pentole, è perché mi piace pensare che la musica vada fatta dal vivo e che non ci siano dei luoghi dove la musica non si può fare dal vivo, quindi va benissimo perché questa bellissima libreria non è un teatro, l'acustica non sarà quella di un teatro, sarà sicuramente meglio di molti palazzetti che ci capita di fare e abbiamo un'approvazione ridotta e come nella migliore tradizione dillaniana non abbiamo provato quasi Va bene, io comincerei facendo un pezzo che si chiama, nella lingua originale, Gattus Air Somebody è una canzone che appartiene al periodo religioso di Dillan e quindi molto nascosta perché lui viene criticato e diciamo che non scondò il botteghino con questo disco Gattus Air Somebody che diventa l'italiano, se lo dire qualcuno, vai Puoi fare il diplomatico in Francia o in Spagna Puoi vivere per il gioco o vivere per la danza Puoi essere il peso massimo più forte che ci sia Puoi essere una gran signora in un abito di sardoria Puoi essere un pianifico in un'alto di sardoria, ma devi sempre servire qualcuno Puoi sempre servire qualcuno E forse sarà il diavolo Forse sarà Dio, ma devi sempre servire qualcuno Vuoi essere un cantante, vuoi essere una pop star Vuoi avere soldi e droghi, avere donne a volontà Vuoi essere un ladrone, vuoi essere un senatore E possono chiamarti capo o possono chiamarti dottore Ma devi sempre servire qualcuno E forse sarà il diavolo, o forse sarà Dio Ma devi sempre servire qualcuno Vuoi essere un soldato, vuoi essere un pirata Vuoi essere il padrone di un antico privato Vuoi essere ricchissimo, lo vivere in povertà Vuoi andare in un altro continente, sotto un'altra identità Ma devi sempre servire qualcuno Forse sarà il diavolo, forse sarà Dio Ma devi sempre servire qualcuno Vuoi essere un fallito, ma caccia gli spedienti Vuoi essere un politico che prende le tangenti Vuoi essere un barbiere, vuoi essere un rap domande Vuoi essere un barbiere, vuoi essere un barbiere, vuoi essere un amante Ma devi sempre servire qualcuno Vuoi essere un barbiere, vuoi essere un barbiere, vuoi essere un barbiere Forse sarà il diavolo, o forse sarà Dio Ma devi sempre servire qualcuno Vuoi essere un barbiere, 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 vuoi essere un bar qualcuno. Forse sarà il diavolo, forse sarà Dio, ma che mi sembra servire qualcuno. Puoi chiamarmi Ferdi, puoi chiamarmi Vale, puoi chiamarmi Fede, puoi chiamarmi A, puoi chiamarmi Ciccio, puoi chiamarmi Generale, chiamarmi come credi, chiamarmi come ti fai, ma devi sempre servire qualcuno. Forse sarà il diavolo, forse sarà il Dio, ma devi sempre servire Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.